I militari della Guardia di Finanza di Foggia, su disposizione della Procura, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari e un sequestro di bene e utilità nei confronti di un 62enne di Sanicandro Garganico, operatore di registrazione presso la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Foggia e designato dalla stessa al rilascio delle abilitazioni dei certificati per i servizi digitali della Camera di Commercio di Foggia, l'uomo è accusato di peculato. In particolare, i certificati della Carta Nazionale dei Servizi e Firma Digitale, strumenti necessari per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, sono rilasciati su dispositivi informatici. Al rilascio di questi dispositivi sono preposti i dipendenti delle Camere di Commercio e gli operatori di registrazione delle associazioni di categoria, firmatari di convenzioni con le Camere di Commercio e le autorità di certificazione. Le indagini, partite da una denuncia della Camera di Commercio di Foggia e svolte dai finanzieri, hanno permesso di appurare che il 62enne, in qualità di incaricato di pubblico servizio e di unico soggetto abilitato al rilascio dei dispositivi informatici presso la CNA di Foggia nella sedia di Sanicandro Garganico, ha riconosciuto dal 2016 al 2019 decine di richiedenti abilitazioni e certificazioni digitali per l'accesso al sistema dei servizi digitali della pubblica amministrazione, trattenendo senza titolo i diritti di segreteria relative alle procedure di identificazione dell'utente e di generazione della firma digitale, nonché le somme riscosse in contanti a fronte del rilascio all'utenza dei dispositivi digitali. Somme di cui si è appropriato indebitamente, senza mai riversarle nelle casse della Camera di Commercio di Foggia, come invece avrebbe dovuto fare e che, a giustificazione delle quali, l'uomo aveva sibito, in fase di rendicondazione in Camera di Commercio, bollettini di versamento in conto corrente postale compilati ma mai eseguiti allo sportello. L'ammanco accertato di circa 63.000 euro è la somma di cui il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo diretto o per equivalente quale profitto del reato a danno delle casse della Camera di Commercio di Foggia e che i finanzieri hanno assicurato alla giustizia ponendo i sigilli ad un immobile intestato all'arrestato e bloccando alcune sue disponibilità bancarie.